I prodotti Linvea li scelgo perché a differenza degli altri prodotti, parliamo degli smalti Hydrolack, hanno un tempo di asciugatura che mi permette di poterli variare, miscelare tra di loro e quindi avere delle sfumature diverse e più accese rispetto ad altri smalti che ho usato in passato. Inoltre del prodotto Linvea è importante anche il fatto che i colori riescono ad essere vivi già dalla prima passata piuttosto che andare a ripassare più volte il colore sullo stesso riquadro.